Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, nuovo video sulla guerra in Ucraina. Questa sera vorrei occuparmi degli oligarchi, perché da qualche giorno in questa parte la stampa sembra aver scoperto gli oligarchi russi, termine che negli anni precedenti era utilizzato certamente per indicare il cerchio magico di super ricchi russi che attorniano Vladimir Putin, però la cosa buffa, se non fosse che poi la storia è drammatica, tragica, fatta di orrore, violenza, morte e miseria, la cosa buffa è che questi oligarchi con i loro soldi hanno fatto gli interessi di banche, di fondi di investimento, di squadre di calcio e oggi in modo particolare, da qui prendo spunto per parlarvi degli oligarchi russi, il Sole 24 Ore con un bel servizio, con un bel articolo di Angelo Minkuzzi, ci elenca gli oligarchi russi e soprattutto questo fiume di denaro definito addirittura è un hub Londra del denaro sporco, luogo chiave per riciclarlo anche finanziando università o acquistando squadre, però di questi soldi sporchi il nostro sistema finanziario, capitalistico finanziario occidentale si è nutrito. Parto dagli oligarchi per poi nei prossimi giorni continuare a raccontarvi come i media stanno narrando la guerra perché siamo in presenza di una narrazione veramente di basso basso livello con ovviamente le dovute eccezioni, una narrazione appunto abbastanza univoca a favore degli ucraini, questo ci può stare in una logica di invasore ovviamente ma non c'è criticità, vi faccio un esempio, ben vengano le sanzioni a mio avviso perché sono una risposta alternativa alla guerra, però discutiamo anche delle sanzioni, di quale tipo di sanzioni utilizzare, quali siano le più efficaci e magari quali siano anche ingiusti, vi faccio un esempio, espellere tutti gli atleti della federazione russa dal calcio al basket alla pallavolo è una misura giusta? Possiamo discuterne, cioè è giusto che gli atleti paghino le colpe dei governanti, magari sì, però sarebbe anche carino poterne parlare senza la fanfara della propaganda, godendo quasi la Russia non parteciperà a Eurovision, non so stiamo sanzionando Putin in quel modo, uno può dire sì perché creiamo del malumore intorno alla figura di Putin, però sarebbe bello poter discutere non appunto in modo propagandistico, invece in questo momento l'informazione anche nelle nostre democrazie è particolarmente tossica, vi ripeto a mio avvio si salvano molti giornalisti, anche molti opinionisti, analisti, continuo a dire la parte caraccio di Limes quando è ospite, è sempre un livello sopra tutti gli altri, ma anche Alberto Negri, un tempo inviato del Sole 24 ore, oggi del manifesto, è una firma, è un opinionista particolarmente attento, con una visione completa e complessiva degli avvenimenti, ma prima di salire adesso a fare il video ho provato facendo zapping perché a me piace comunque vedere il mondo in cui vivo, a vedere la 7 nell'arena di Giletti si vedeva proprio quasi il godimento, purtroppo bisogna dirlo, del giornalista, del dire, il giornalista, il conduttore, cade la linea, altrimenti siamo in guerra, la città, spettrale, i missili, questi poveri bambini, tutto giusto o tutto non giusto non lo so, ma si nota quasi un godimento involontario, mi auguro nel raccontare una guerra, no, non funziona così, bisogna veramente cambiare il registro. In modo particolare la questione degli oligarchi è drammatica, buffa al contempo, anche intellettualmente vergognosa. La Russia di Putin, la Russia di Putin secondo me ha accumulato in questi 20 anni una serie di azioni politiche, 30 anni quasi, politiche militari vergognose, ricordo la prima guerra di Putin, quella contro i ceceni, ha costato la morte decine di migliaia di ceceni, con tanto di assedio della città, con tanto di acqua tolta, luce spenta, c'è un assedio che è illegale oggi, l'assedio della città intervenendo sui servizi essenziali, sui beni essenziali, quel Putin criminale in Cecenia, per come ha condotto la guerra in Cecenia, era accolto nell'Occidente, di Berlusconi non stiamo neanche più a parlarne, in Sardegna, le belle donne, i festini, era il Putin le cui mani grondavano sangue per la Cecenia. Ebbene poi andava in giro comunque come statista della federazione russa a fare affari economici con il gas, con le armi, con le banche, con dunque la finanza. E in questi 20 anni gli oligarchi si sono più che mai formati, oligarchia Platone dice è la forma degenerativa dell'aristocrazia, questo è il governo dei pochi, dei migliori, secondo Platone i migliori, quello che sono i beni, i saggi, i sapienti devono guidare la città per il bene comune, per il bene dello Stato, per rendere la città più che mai un organismo armonico in cui tutti possono essere felici eseguendo il miglior e il proprio compito, governati per la stessa vecchia e dalle buone leggi. Gli oligarchi invece sono coloro che prendono il potere, i pochi, ma in questo caso corrotti, avidi di denaro, che impongono il governo con la paura, con la ricchezza, con la corruzione. Questi oligarchi ci sono da decenni, il più famoso di tutti però è sempre stato al centro degli affari con il mondo occidentale ed è Abramovic, il presidente del Chelsea che oggi abbiamo saputo farà gestire il Chelsea a qualcun altro, ma lui è sua moglie, si è rotto calchi rosa, affari d'oro, ha ricoperto d'oro allenatori, ha vinto le Champions League, gli Scudetti, il Chelsea che è entrato nel mercato del calcio con i suoi rubli diventati euro, diventati dollari, diventati sterline, chissà da dove arrivavano, perché sotto questi denari ci sono poi i lavoratori, i cittadini, i salari tagliati, il welfare state distrutto in Russia, raccontiamolo un po' anche il mondo russo, perché gli oligarchi hanno accumulato ingenti e ricchezza nelle loro mani non distribuendole nella Russia ma portandole all'estero questi oligarchi, ora scopriamo non essere brutti, sporchi e cattivi. La City, paradiso degli oligarchi, ci dice il sole 24 ore, ripeto un bell'articolo, quello di oggi, il fenomeno è ben noto però, già nel 2018 il rapporto della Commissione parlamentare concludeva con preoccupazione, preoccupazione, che gli oligarchi attuali devono ricchezza a Putin, per ricambiare agiscono come fonte di finanza privata per il Cremlino, 2018 si poteva già sapere un bel po' prima, però andava bene, andava tutto sommato bene, questi denari arrivavano. Un hub del riciclaggio, da decenni Londra, da decenni Londra, è un hub del denaro sporco, il luogo più importante per riciclare soldi e nascondere le ricchezze degli oligarchi, la National Crime Agency stima che ogni anno vengono riciclati 100 miliardi di sterline nel paese, i miliardari russi sono accorsi in massa nella capitale britannica, già a partire dal 90, inondando di soldi, chi pensa che Putin sia ancora un epigolo del comunismo, forse ha bevuto troppo, e ripulendo nel tempo la propria immagine, con lo stesso denaro hanno finanziato però università, da va bene, musei, hanno creato fondazioni benefiche, comprato scuole di calcio, sevenzato partiti politici, dato lavoro ad avvocati d'affari, banche, consulenti finanziari, oligarchi, brutti, sporchi e cattivi, agenti immobiliari, antiquari, negozio di lusso, scuole e società di sicurezza, un giro d'affare che ha contribuito a introdurre l'elite britannica, alcuni oggi vengono anche definiti miliardari e filantropi, dei mecenati. Questo, questo è il mondo degli oligarchi brutti, sporchi e cattivi amici di Putin, adesso, adesso, però noi vorremmo che Putin forse sia rovesciato, no, dico quel mondo lì, però poi i soldi, anche se fatti sulle spalle, spalle, spalle del lavoro dei russi, le ricchezze che apparterebbero a tutta la Russia, anche se sono fatte le spalle di tutte queste persone, vorremmo che questi soldi rimanessero nella finanza, comunque rimanessero in circolo nelle nostre economie. Andiamo un po' a vedere, il box, Roman Abramovich, l'ex star di Eaton Square, Eaton Square nel quartiere di Belgravi è stato supernato alla Piazza Rossa a causa del numero di edifici di proprietà russa, possuto da oligarchi, adesso vi piace questo nome, il proprietario del Chelsea di cui ha ieri lasciato la gestione, Roman Abramovich, la cui fortuna è valutata in 13,8 miliardi di dollari, ha acquistato qui una casa da 28 ministerini nel 2003, una delle numerose ville che possiede a Londra, nel 2018 non gli è stato però rinnovato il visto, oggi Abramovich ha la cittadinanza israeliana, ma anche quella portoghese, perché i soldi comunque fanno un po' comodo a tutti. Oleg Deripaska, il re dell'alluminio, un altro oligarca con proprietà nella piazza, il magnate dell'alluminio, Oleg Deripaska, che si ritiene abbia un patrimonio di 3,2 miliardi di dollari, molto vicino a Putin, è stato sanzionato dal governo americano, ma non dagli altri governi. E poi Alisher Usmanov, una casa a Highgate, azionista dell'Arsenal, ex azionista dell'Arsenal, Alisher Usmanov, e di casa a Londra, scusate, possiede la Beckett Woodhouse, una grande costruzione che sorge su un telo di 11 acri a Highgate, nel nord di Londra. E poi Andrei Guriev, dalle isole vergine a Londra, sempre a Highgate, c'è Witness Mansion, il secondo edificio più grande di Londra dopo Buckingham Palace. L'ha comprato nel 2008 Andrei Guriev, il miliardario russo ed ex senatore per 50 milioni di sterline attraverso la società delle isole vergine britanniche, che nel 2017 l'ha venduta a un'altra entità delle isole vergine, non si conosce il proprietario. Ora l'edificio varrebbe circa 300 milioni di italiane. Guriev possiede anche un attico a cinque piani nella St. George Wharf Tower a Londra. Voi capite, voi capite che per decenni di fronte a un Putin che ha ucciso oppositori, fatto restare oppositori, ha ucciso giornalisti, ripeto la guerra in Cecenia massacrante, un Putin che era additato come un autocrate. Di fronte a un Putin così molti hanno continuato a fare affari, ad alimentare, perché la colpa di Putin non è quella di essere un dittatore, un autocrate, ma di aver a un certo punto rotto le uova nel paniere all'espansione della Nato. Se stava buono, tranquillo, col suo governo corrotto a casa sua, nessuno gli avrebbe detto niente. Anzi, benvengono le feste con Berlusconi, gli abbracci con Trump, benvengono gli affari con il gasdotto nel Mediterraneo o nel Nord Europa o con la Germania. Non importa tutto questo. L'importante è non rompere una serie di equilibri. A quel punto, quando si rompono gli equilibri, emergono tutti gli schetti nell'armadio. Ripeto, molti li avevano denunciati, questi schetti nell'armadio. Io ho dei video vecchi, 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 in cui parlo della politica imperialista di Putin, come ho tantissimi video in cui parlo della politica imperialista americana. Perché in questi giorni, quando mi sento dire che la sovranità e la libertà sono dei valori assoluti, l'indipendenza, la sovranità dei popoli, io voglio solo ricordarvi che francesi, inglesi, americani hanno appoggiato a colpo di Stato, ad esempio, dall'Egitto all'Algeria, quando avevano vinto delle formazioni, regolarmente le lezioni, che non garantì una stabilità favorevole agli inglesi, gli americani, gli statunitensi o ai francesi e così via discorrendo. È chiaro? Perché altrimenti continuiamo ad applicare i due pesi, due misure. Non funziona per la credibilità di una politica che vogliesse una politica realmente di relazioni internazionali fondate sul diritto, sulla correttezza, sulla reciprocità tra gli stati, tra i popoli, fidelizzata al benessere. Sappiamo che non è così. Alla crescita non è così. È una grande lotta nel mondo tra stati e tra grandi imprese transnazionali per l'egemonia, per il potere. Se ti metti di attraverso su questo potere, ecco che nel nostro mondo di democrazia, per fortuna, però si comincia a utilizzare l'arromentario dell'antidemocratio. Che Putin è molto buffo, però scopriamo che sono degli oligarchi. Ma la Russia, che nel 2018 ha avuto i mondiali di calcio, gli andati dunque una decina, 8-9 anni prima, non era la Russia degli oligarchi. Andava bene fare il mondiale a Mosca, la città della Russia nel 2018? Andava bene? Sì, probabilmente andava bene perché a quell'epoca Putin era ancora presentabile o comunque lo si poteva digerire. Questa è la situazione, l'oligarchia russa con la quale imprese italiane, francesi, tedesche, stranitensi hanno fatto affari. Poi adesso chiaramente il clima è cambiato, però mai, mai sento lo sdegno quando ad essere poi malmenati, o comunque c'era poco sdegno, erano gay, lesbiche nella Russia, anche perché c'è una discriminazione attualmente nella Polonia e nell'Ungheria dentro l'Unione Europea. Dunque per i diritti umani si dice ben poco, poca cosa. Quando tutto questo veniva dentro la Russia andava bene. Adesso che Putin ha fatto una cosa orripilante, perché è inaccettabile vedere questo tipo di guerra nel 2022 e non cercare degli altri tipi di soluzioni, essi dovranno cercare, ecco che però rispolveriamo tutte le malefatte di prima. Ecco, sembra importante in futuro denunciarle queste malefatte, questa economia corrotta, mafiosa, questa economia oligarchica andrebbe denunciata sempre, non soltanto quando fa como. Dunque l'oligarchia, la Russia è un'oligarchia, la Russia ha una dittatura oligarchica, c'è un dittatore che controlla un partito e che poi ha degli oligarchi attorno. Penso che tutto questo sistema sia profondamente in crisi. Io non credo che la guerra stia andando malissimo, come dicono i media, per la Russia, però sono convinto che questo è l'atto finale di Putin. Putin da questa guerra uscirà con le ossa rotte, Putin da questa guerra uscirà sconfitto, ma non tanto dalla potenza militare della NATO, è comunque nettamente superiore a quella della Russia e a meno che non si dice andare verso gli armi nucleari e dovrebbe spaventarci questo richiamo alla deterrenza nucleare oggi di Putin, ma quanto perché il mondo, l'opinione pubblica, scaricherà Putin all'interno della stessa Russia. Domani vi presento o dopo domani alcuni di questi oppositori, dagli scienziati e dagli sportivi a molti cittadini comuni. Prima però domani vorrò con voi parlare del perché secondo me Putin perderà questa guerra. Oligarchia, oligarchia da Platone a quella di Putin e amici, speriamo che in futuro ci sia più lungimiranza da parte degli analisti politici e quando Putin era sulle maiette di Saldini o definito dalla Meloni difensore della cristianità, bene, pensiamo che un domani quando qualcuno, oh, per non andare a usare a Bin Laden, amico degli americani perché combatteva i sovietici, speriamo che qualcuno abbia delle visioni un po' più lungimiranti, però questo tendenzialmente non accade perché questi scheletri, questi orrori vengono rispolverati solo quando è ora di presentare il conto stato soprattutto a noi, a noi opinione pubblica, a noi, all'Olimpiade invernale, tutto è stato dato alla Russia di Putin senza colpo ferito, ma com'è giusto che anche sia perché lo sport ha anche delle altre regole, allora se aveva delle altre regole prima cerchiamo di ora mantenere una credibilità, altrimenti se questa credibilità ogni volta viene bruciata è poi difficile far sì che c'è una cittadinanza informata che si avvicini realmente alla lettura dei giornali, al visitare i siti con un occhio critico o ancora di più ascoltare dei telegiornali o delle trasmissioni in radio con spirito critico, perché? Perché la mancanza poi di credibilità degli opinisti, di molti, non di tutti, fa sì che la cittadinanza torni più che mai ad essere una cittadinanza minorenne, dunque poco capace di comprendere, di intendere e soprattutto priva di spirito critico.